Lega Basket Serie A e Beco Elettrodomestici, il marchio della Smart Generation, presentano Serie A Beco. Questo colpo da parte dell'americano che adesso si punta dentro, lo scarico per Fossis che va a schiacciare. Adesso Filippini ferma il gioco come regolamento. E' anche il passaggio con tutti i cili da parte di Smith, quindi se vediamo queste cose, eccolo qua, altri due punti per il Signore. Lugse va ad attaccare su Marco Nato, non arriva ancora la chiamata, apre subito per Zorowski Venezia. Ha stoppato la Jerry Smith, che poi va a recuperare un valore diretto. Cosa ha fatto? Balla per la Venezia. Non edifa creare il popolo, non tirare non è draufiasi. E' un grande calcio. Una sola cosa ha Corinth, che sta robando questo? Sì, è verissimo, questo è un'alte Meritivo. Lega Basket Serie A e Beco Elettrodomestici, il marchio della Smart Generation, hanno presentato Serie A Beco.